Giovedì mattina è stato presentato alla stampa presso la Sala del Buon Arrivo in corso da Augusto a Rimini, Ossium nel Montefeltro, un movimento culturale ideato nel 2005 dal grafico designer Nova Feltriese Gian Piero Bianchi per veicolare il brand Montefeltro. Un progetto che coinvolge il paesaggio naturale incontaminato di sette comuni dell'Alta Valmarecchia, due della Toscana e nove della Regione Marche. È già un paradiso intero secondo me, però potrebbe diventare veramente un posto di turismo qualificato, di gente che non devasta lì dove cammina, meriterebbe e penso che questo progetto se riusciamo a portarlo avanti si trovano anche giusti appoggi, è veramente ideale per poter continuare così.